e ora, grazie alla sua magia, potrò finalmente far guarire la nonna per favore, ascolta la mia preghiera ed esaudisci il mio desiderio fa che la mia cara nonnina si rimetta in forma e possa uscire al più presto dall'ospedale ti prego, aiuta anche il mio amico Pac, lui è caduto da quel ponte mentre cercava di salvarmi ma perché non funziona, dovrebbe succedere qualcosa la nonna diceva che sarebbe comparso un drago per esaudire il mio desiderio ascoltami, tu che stai nella sfera, devi aiutare la nonna, non senti come ti prego allora, ma perché, perché insomma, ma perché il mio desiderio non si avvera basta ho fatto tutta questa strada per niente, per niente le sfere del drago funzionano quando sono tutte e sette insieme Pan non te l'ha detto? ciao tu chi sei? allora vediamo, sono il tuo bis, bis, urca quanto tempo è passato beh, puoi chiamarmi semplicemente nonno Goku nonno Goku? il mio trisabolo già ti ho visto combattere, lo sai? sei fortissimo, io sono molto orgoglioso di te no, non è vero, non sono forte come pensi tu che cosa dici, sciocchino, certo che sei forte, devi credermi per te, sono stato coraggioso eh sì, certo, anzi sei stato molto coraggioso anche perché essendo mio nipote di primo, secondo, terzo, quarto beh, insomma, essendo mio nipote hai del mio sangue nelle vene però non sono riuscito a salvare il mio amico Pac ehi, Goku, ciao Pac, sei tu Pacu nonna Pac, che bello, sei guarita allora ha funzionato avevi qualche dubbio sul fatto che mi riprendessi la tua nonna è una roccia, non dimenticarlo è andato tutto per il meglio la sfera del drago ha funzionato ha esaudito il mio desiderio nonno Goku no, ti sbagli non è stata la sfera del drago ad aiutarli è stato soltanto il tuo coraggio mi raccomando, continua così certo il viaggio del piccolo Goku Junior alla ricerca della sfera del drago si è concluso nel migliore dei modi grazie d'ora in poi darò sempre il massimo continua a vegliare su di me, nonna Goku ora sarà Goku Junior a custodire la sfera del drago la conserverà per sempre in memoria del suo straordinario antenato proprio come accadde con Goku che da piccolo la custodi in questa capanna in memoria di suo nonno il mio nipotino promette bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti